Il delicato momento Il momento politico che sta attraversando il Paese. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico ed esponente di spicco di questo partito. Ecco, un momento piuttosto confuso. Un momento confuso bisogna vedere da che punto lo si guarda, perché per quanto mi riguarda il momento non è confuso, anzi il momento è chiaro e le elezioni come sempre ci danno un quadro sul quale puntare l'attenzione e riflettere. Io in questo momento, se devo esprimere una preoccupazione, al di là di quelle che sono le tensioni sociali nel nostro Paese, ma rispetto al momento elettorale, guarderei con grande preoccupazione al dato dell'astenzionismo. E' quello il vero problema del nostro Paese ed è quello il punto che dovrebbe essere aggredito dai partiti. Su questo io penso che noi dobbiamo aprire una grossa riflessione e ritornare a fare politica dalla parte dei cittadini. Ecco, Grillo intanto riesce a calamitare parte del malcontento degli elettori. Ma Grillo è un fenomeno fin quando i media vogliono che diventi un fenomeno. Io lo vedo così perché Grillo, come dice un altro uomo di rottura, non scassa, soprattutto non scassa al mezzogiorno. Io penso che chi fa politica dovrebbe un attimo analizzare con più attenzione il voto. C'è un voto soprattutto dei giovani con Grillo e i partiti si devono interrogare. Perché tutti questi giovani non si innamorano più del fare politica? Anzi, vedono soprattutto nella politica un avversario da battere e da combattere. Il vero problema sono i partiti e siamo noi nel momento in cui non mettiamo al centro dell'agire politico alcuni valori importanti, soprattutto la questione etica e morale. Cioè i giovani tornano a fare politica e si innamorano della politica se vedono che la politica lavora con un'alta moralità e con un'alta etica civile, soprattutto nel rappresentare i cittadini. Ecco domenica, prossima parte degli elettori si recherano nuovamente alle urne per i ballottaggi. Il primo turno intanto ha già dato alcuni responsi inequivocabili, come ad esempio lo scioglimento del terzo polo, ufficializzato dallo stesso Pierferdinando Casini. Si è sempre stato quel detto che dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Io penso che il terzo polo prima delle elezioni abbia detto troppo e abbia fatto poco, dopodiché gli elettori sanno scegliere, sanno anche dove indirizzare il proprio voto e quindi la bocciatura del terzo polo così come lo avevano immaginato non è andata sicuramente a genio agli elettori e quindi questa bocciatura porta il terzo polo a rifondare un nuovo soggetto politico. È sempre tutto strano, parlo dall'esperienza che abbiamo fatto come Partito Democratico, anche noi siamo passati attraverso alcune fasi, però quando è nato il Partito Democratico è nato con l'intenzione di non avere un nuovo partito, ma di avere un partito nuovo, che è diverso dal nuovo partito, perché di nuovi partiti ne stiamo vedendo forse fin troppi dalla Costituzione ad oggi. Invece i partiti devono essere nuovi nell'agire, nelle basi, negli statuti che si danno, proprio nella quotidianità oserei dire dell'agire. Io penso che il Partito Democratico sia stato premiato in queste elezioni per la battaglia che ha fatto sull'articolo 18, quindi sulla riforma del lavoro e che ha avuto i suoi risultati. Quindi penso che poi i cittadini, al di là dei voti di protesta, sappiano poi scegliere realmente i partiti che li rappresentano. Ecco, intanto le tensioni sociali agitano alcune volte sotto traccia, altre volte in maniera plateale agitano il Paese. A Napoli nei giorni scorsi vi è stata una forte protesta contro Equitalia e si teme il ritorno del terrorismo. Io spero proprio di no e penso che anche in questo caso la matta sia in mano alla politica. la politica deve mettere al centro l'uomo, l'individuo, non può tenere al centro dell'agire politico i mercati e le finanze. C'è bisogno dell'uomo, del lavoro, di tutte quelle che sono le prerogative di un cittadino libero e consapevole. E allora anche in questo io penso che come Partito Democratico e anche al suo interno come PD noi ci siamo anche dati delle ispirazioni, non le voglio chiamare correnti perché le correnti hanno prodotto soltanto dei danni gravissimi al PD, ma ci sono gruppi importanti che invece lavorano affinché il PD, io spesso ho parlato di identità del PD, si dia un'identità che sia quella appunto, se la vogliamo catalogare con le vecchie categorie di pensiero, un'anima più di sinistra, ma di sinistra intesa come umanesimo, come uomo al centro di tutte le politiche, ma è quello che sta accadendo e che è accaduto in Francia con Hollande e che è accaduto qualche giorno fa con la Merkel, con la bocciatura che ha avuto nel Land, tra l'altro di sua provenienza. Quindi c'è questo bisogno, ce lo dice l'Europa, ce lo dice l'Italia col suo voto, c'è bisogno in questo momento di rimettere l'uomo al centro. Se riusciamo a fare questo tutti quanti insieme, veramente possiamo dare una svolta alla politica tutta e soprattutto rafforziamo in questo momento l'Europa che secondo me deve essere l'obiettivo più importante, si sta parlando tanto di una Grecia che potrebbe uscire dall'Euro, io penso che sia il danno più grande per la Grecia e per l'Europa, quella di uscire dall'Euro. La moneta unica è un punto di forza di tutta l'Europa, non a caso gli Stati Uniti ha guardato al modello europeo con una grande attenzione nel momento in cui abbiamo fatto la moneta unica, io penso che se dovessimo riuscire a fare anche quel grande salto di qualità, di avere una Costituzione di tipo europeo, io penso che forse l'Europa si riesce a risollevare da questa crisi difficilissima. Ecco un voto che in sostanza in tutta Europa ha punito i governi, quale insegnamento per il Presidente del Consiglio Mario Monti e quale insegnamento per i partiti che sostengono il governo Monti? In parte già l'hai detto prima. Il sollecito che io farei a Monti è quello che dico sempre, tendere l'orecchio con attenzione agli umori del Paese, non si può governare in astratto, non si può governare in maniera teorica, c'è una pratica che è quella della quotidianità, della vita di tutti i giorni, della difficoltà del vivere. Mi ha colpito una notizia sul giornale di qualche giorno fa dove un uomo ha commesso un reato dicendo vabbè vado in carcere mangio, siamo al massimo della disperazione, è un caso isolato, però ci dà un segnale e anche i casi isolati quando si governa vanno guardati con la dovuta attenzione. Rimettiamo l'uomo al centro, ritorniamo a fare politica per un nuovo umanessimo. Probabilmente Monti stesso potrebbe cominciare già da subito per cominciare a preparare il terreno per le elezioni del 2013. Napolitano recentemente ha sollecitato la riforma elettorale, ci sarà il tempo per farla? Io lo spero davvero perché anche lì c'è un vero problema di rappresentanza. Noi abbiamo tanti parlamentari in tutti i partiti eletti che sono sconosciuti ai cittadini. Se ciascuno di noi va a chiedere a ciascun partito quali sono i suoi eletti alla Camera o al Senato non ve lo sa dire nessuno perché non c'è più quella tensione e quella vicinanza che gli eletti al Parlamento avevano con i territori. Con le nomine logicamente si risponde al segretario del partito e non si risponde più ai cittadini. Questa secondo me non è una pratica democratica quindi spero che si faccia la legge elettorale e che la democrazia torni ad essere reale e non virtuale come lo è invece con questa legge elettorale. Legge elettorale ed elezioni del prossimo anno. Nel Partito Democratico c'è già area di grandi manovre. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi ha prenotato un posto per le primarie. In questo partito io devo dire forse perché è un partito nuovo c'è una grande vivacità. Io in questo momento guardo con grande attenzione a quello che è accaduto nella mia città, nella mia provincia. Ci prepariamo ad un congresso e penso che quando un partito decide di andare a un congresso dopo la storia anche bruttina che c'è stata precedentemente ha scelto di seguire la via maestra e quando si sceglie la via maestra in genere non si sbaglia. E allora cominciamo da quello e poi cominciamo a risistemare prima le cose in casa nostra e poi guarderemo con la dovuta attenzione a quello che accadrà nel 2013 e anche al PD nazionale. Bene, buon lavoro a voi tutti. Grazie per la cortesia attenzione. Da Quino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.